Ciao a tutti e a tutti, io sono Amelia, sono una dottoranda al primo anno alla Facoltà di Astronomia qui all'Università di Padova e per la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza sarò felice di rispondere ad alcune delle vostre domande, come ad esempio per quali motivi varrebbe la pena iscriversi alla Facoltà di Astronomia? Ecco, per quanto semplice questa domanda possa essere non è per nulla banale, anche per me che ho fatto questa scelta tanti anni fa. Decidere infatti di intraprendere questo percorso significa confrontarsi con qualcosa di intangibile, con qualcosa che è estremamente più grande di noi e tanto tanto lontano da noi. Quindi si inizia questo percorso sapendo che tutte le risposte alla fine non ci verranno date, anzi probabilmente molte altre domande saranno suscitate in noi. Però ecco, è proprio questo che mi ha interessato e mi ha affascinato nel mio percorso, perché studiare astronomia è un po' come cercare di risolvere un puzzle, io adoro i puzzle, e ogni fenomeno fisico, ogni legge matematica è come se fosse, come se componesse un pezzetto di questo quadro molto più ampio, quadro che di certo al momento non è completo e per cui è necessario che in tanti ci si mettano per cercare di risolverlo. La difficoltà sta soprattutto nell'affrontare la matematica e la fisica e questo non è un segreto. Però io credo che la soddisfazione che si ha dopo, quando si iniziano a capire i vari fenomeni, come funzionano, perché è una galassia ruota, perché c'è un eclissi, come funzionano i buchi neri. Ecco, in quel momento il gioco ne vale la candela, nel senso che lo stupore e la meraviglia che si ha di fronte a questi fenomeni che sono davvero sconvolgenti e tanto. Ed è per questo motivo che io vi consiglio di lanciarvi in questo percorso, per quanto difficile possa essere, però io credo che ne valga la pena alla fine per la soddisfazione della bellezza che ci porta. Quindi io vi incoraggio a farlo, per quanto difficile sarà molto bello.